Ehm, prova Zarya, fidati che ti diverti. Ma Zarya non sono buono. Beh, l'idea è semplicemente, ti metti davanti con la bolla e ti scopi, e ti rifugi. La bolla ti carica il danno, quando la scritta sul numero si avvicina a 100 fai un danno estremo. Ehm, la bolla la puoi mettere anche agli altri, cerca di mettergliela quando sanno per subire dei veri danni, non appena vengono spiorati perché ha un certo cooldown. La tua ultimate fa un disastro e fai spam di tasto destro se sono raggruppati e di tasto sinistro se miri a uno solo. Passa attraverso anche il Matrix e le varie difese. Come su Heroes, ok. Sì, principalmente di solito infatti lo fai su Reinhardt perché lui abbassa, quando inizia a martellare te gli metti la barriera, però lo fai anche su Giler quando vengono attaccati da un flank o cose così. Io vado a prendere la posizione rialzata, cazzo. Ah, niente di va. Io no perché non so com'è una mappa, quindi... Tu stai con i tanki infatti, leggermente più indietro. Ripper viene da me, Ripper dietro, Ripper dietro. Che bello. Tornando in vita qualcuno, eh. Ho messo una Ripper su te. Ripper. Ci sono, Massi. Oh, occhio, Tad, che non ti vedo. Eh, gli ho messo lo scudo io, intanto. Allora, lo scudo dura massimo due secondi, a meno che non venga rotto prima dai... Eh, un Sigma che è una scarca scartissima, sta immobile. Fai la Sigma, è morto. Eh, eh, eh. Ma tu scarzi tu, ottime se... No, no, a me. Non chiamare un po' che ma ci massacrano. Tornate indietro. Eh, mi do te ne mani, se no ne la faccio. Eh, sono arrivato. Messa Nanna, Roadhog. Bella. Coretta, caccia. Oh, non ho preso solo. Cazzo, mi arrivano addosso tutti. Ho presa. Dov'è? Ho l'ulti. Uh, bella. Eh, vado, anche alzati campo. Dio, sono... Torno su, eh. Resistete un attimo che non ho contatto visivo? No, no, ecco. No, no, no. Ulti! Era... No, erano tutti dentro, cazzo. Ciao. No, no, Sigma è allucinata. Cazzo, ho mancato per una frazione di secondo. No, ma non mi raccorto, ma che rado? Allontanati, allontanati, Alec. Non me l'ho accorto, porca Eva. Mi fa un po' caccare, eh. Arrivo alla ulti, poi cambio. Non mi piace. Pies mia. Arrivo alla ulti. Via, 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 via. Allora ulti. Buono, buono. Uh, no, no. Ah, non hai preso nessuno. No, no, Sigma è emersi, sì. Brigitte. Come on. Carocito. Guarda che è bassissimo. Ok, scappa, scappa. Merda, sono violato. Quando senti che fa tttt, ti metti subito la bolla. O cerchi di farle danno. Mi sto tornando. Arriva. Indietreggia, indietreggia. Graziato di muro. Sono violato ancora. Ah. Indietreggiato. Che palma mi viola sempre, cazzo. Prendere di mirare i tank è un po' una goduria. Oh, via, via, via. Mi sto dormire. E via che sono violato ancora. Madonna, pumbana. Protagon Anna. Sigma è morto. Uh, congelato fuori dall'ulti. Molto. Ahia. Oh, via. Ho ucciso tra big healer. Scappate, scappate, scappate. Usa questo oro in eliminazioni con Zarya. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Zarya mena, te l'avevo detto. Sì, però non fa un po' cacchi. Come è gameplay. Usala per mangiare l'ultimate di Reaper, il Matrix. Poi puoi fare un po' di colpetti a caso, che riesci a dare fastidio a Sombra. Aiuto. Sombra. Dove sei? Guardate che arrivo. No, cazzo, non ci sono. Non star dietro l'angolo. Sono l'urti, eh? Dietro, 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 mi stanno mettendo pressione. Non riesco. Cazzo, Reaper. Dietro di te, Alec. Come è stato? Col Matrix, Matrix, col lui. Eh, mi ha agganciato coso. Da dove? Indietreggiate, non siete in posizione di difenda. Sigma. Non ho toccato col ganciarmi. Venga via. Ce l'ho di nuovo? Ok, aspetta che si rinulano. Anch'io ce l'ho. Prende anch'io, così. Vai, ce l'ho. Diedemi voi. Ok, aspetta. Prima la fa Snake. Ho sbagliato pulsante. Per la procura merda. Gliel'ho mangiata? Gliel'ho mangiata? Sì. Ok. Ha riuscito a prendermi per culo, ma poteva uccidere tutti. Quindi, sì. Con un pulsante con... Con un pulsante con... Mi ho fatto schiacciare Q, porca proia. Sombra qua, sombra qua, sombra qua. Lo vai in alto? No. Ma che quazzo? Ok, lui non può curarsi. Bella. Ora c'è anche Reaper, però occhio. Stavate, stavate, stavate. Stavate, stavate, stavate. Reaper, mercy, rodo qui. C'è Brighetto sul punto. Dorme. Congelata. Mena, Paz, Mena. Bella. Dai, gazzo. Ho ammazzato a coso. Bella, bella. Ma spara proprio dritto il ghiaccio, non scende neanche un po'. No, no, dritto, dritto. Buono, ammazzo. Arrivano da dietro. Ok, sta dietro l'angolo, Fia. Beh, vada. Ahia. Dai, in alto è andato. Roadhog, non si può curare. Presa, presa, merci. Qui per dietro il... Appagandola, se lo sei. Merda, non ho... Sono violato. Non hai niente, sì. Muori, troia. Ehi, la... Mi ce l'ho di nuovo, eh. Ok. Stavolta fate la combo sul serio. Fagli entrare, gioca un attimino nascosto, Sniper. Prima io? Sì, sì. Prima io? Sì, sì, prima tu. Palla su Roadhog, su Roadhog. Ok, Alex, vai. È nessuno, però. Ah, cazzo. Sfiga. Però comunque li abbiamo fatto a negazione dell'area. Va bene, sto strancio. Reaper dorme, Reaper dorme. Ho svegliatelo subito, ho svegliatelo quando siete sicuri di ucciderlo. Non sparategli per sparargli bassa. Eh no, gli ho preso contro io con lo scappo. Ok, qua mi aspetto un ultimate di Reinhardt. Ah. Bella. Io sono morti con la mia ulti così non si erano appiccinate. Buono, buono, cazzo. Mardidone. Lo ha male. È il nostro, Ro. Sì, è il nostro. La micchia, l'ho trovati proprio lì. Sì, comunque sta cosa che non prende danno con le esplosioni sue è un po' esagerata, secondo me. No, no, lo prende. Sì, fa un po' cagare. No, no, non lo prende. Con, no, con quello del, come si chiama? Quella, quella anima. No, no, non la prende. Però con le sue esplosioni dell'arma la prende. Sì, sì, non mi ricordo, ma... No, no, lo fa. L'ho testato e sono morto, molto forte. Ora Alex, non te ne andare.